Con saluto appuntamento nel nostro telegiornale con l'economia, appuntamento con l'ordine dei commercialisti, abbiamo Mirko Apa, oggi parliamo di un argomento estremamente attuale, la crisi economica porta anche delle persone che hanno firmato dei contratti di finanziamenti e di prestiti, delle volte può capitare di non poter pagare, si diventa cattivi pagatori e si complicano la vita per futuri finanziamenti, però ci sono delle possibilità per potersi cancellare dalla temuta centrale dei rischi, è vero? Ebbene sì, dato il periodo di forte crisi e di scarsa liquidità ci si ricorre sempre di più spesso e frequentemente a richiedere dei prestiti, dei finanziamenti oppure ad accendere mutui, ma anche solo ad aprire una carta di credito, un bancomat per fare gli acquisti quotidiani. Ebbene, all'atto della richiesta di finanziamento si viene per forza iscritti in un database, in un sistema di informazioni creditizie, un SIC. Chiaramente questo database è una sorta di carta di identità del richiedente, per cui sono riportate all'interno tutte quelle che sono le passate, le pregresse, richieste di finanziamento, i finanziamenti andati a buon fine, o anche le rate pagate in ritardo del mutuo o del prestito, se sono stati emessi degli assegni scoperti, per cui è una sorta di curriculum vitae, però può capitare in alcuni casi che questi database, che siano essi pubblici, quindi appartenenti alla Banca d'Italia o privati, di società private, per errori dovuti ad omonimia, dovuti a furti d'identità o ad un mero errore informatico, che le persone si ritrovino iscritte in centrale rischi in maniera impropria e anche e soprattutto purtroppo a propria insaputa. All'atto dell'accensione di un nuovo finanziamento o di un mutuo ci si ritrova ad avere il rifiuto da parte della finanziaria o della banca. È possibile in questo caso, in soccorso dei cittadini, farsi cancellare dalla centrale rischi per un'impropria iscrizione? In primis, rifacendosi all'articolo 7 del codice della privacy, ogni cittadino può richiedere all'istituto di credito o alla banca la propria posizione, può richiedere accesso ai propri dati per eventualmente capire se ci sono degli errori dovuti ad una pregressa impostazione della pratica. In tal caso, nell'arco di 15 giorni, si può avere richiesta da parte dell'istituto di credito, passati quali si può fare ricorso direttamente al garante della privacy. Nel caso in cui si ravvede che ci siano degli errori dovuti ad un'ingiusta o ad un'impropria iscrizione in centrale rischi, si può richiedere la cancellazione. Esistono diverse società che fanno questo tipo di cancellazione ma a pagamento, però non è detto che bisogna pagare per forza perché ci sono dei siti, quali quello della Banca d'Italia, www.bancaditalia.it oppure il sito crif.it o Experian, dal quale ci si può collegare in maniera assolutamente gratuita e richiedere la cancellazione ingiusta. Come di fatti c'è una recente... Però chiedo scusa, bisogna anche provarla che è una iscrizione ingiusta. Certo, assolutamente. Per questo si fa richiesta all'istituto. Una volta avuto accesso ai propri dati e si vede che sono stati inseriti delle erronee considerazioni, a quel punto si è nella condizione di poter chiedere la cancellazione. Tanto è vero, riallacciandomi a questo, c'è una sentenza recente di Cassazione del luglio 2014, nella quale si impartiscono le linee guida per definire la segnalazione in centrale rischi. Per di più, si definisce da questa sentenza che in caso di iscrizione illegittima in centrale rischi si può richiedere il danno patrimoniale e non. Addirittura si può fare la richiesta di essere risarciti per i danni di immagine cagionati o alla società o alla persona fisica. Ad ogni modo si definiscono anche le linee per essere definiti cattivi pagatori. Per cui un solo stato di sofferenza non comporta l'iscrizione automatica in centrale rischi, ma tutto questo si ha in funzione solamente di uno stato di insolvenza che porta ad una condizione di fallimento oppure uno stato di insolvenza cronico.